Nella costruzione. In un vecchio manuale di spiritismo, ho letto che nella costruzione della catena si dovranno disporre tutte le donne alla sinistra e tutti gli uomini alla destra del medium, senza chiudere la catena. È vero? Commento. Non è più vero. Anche la medianità subisce la sua evoluzione. Presso il punto F, ad esempio, è la medium che al di fuori della trance sente come disporre i partecipanti alla riunione.